Utilizzando una telecamera posizionata dietro lo specchietto retrovisore, il sistema accende e spegne automaticamente il raggio principale. Quando la velocità è superiore a circa 40 km orari e i livelli di luce esterna sono bassi e non viene rilevata alcuna fonte di illuminazione, il sistema passa automaticamente agli abbaglianti. Il raggio viene abbassato automaticamente quando c'è un veicolo antistante o se si avvicina nella direzione opposta, nonché quando si entra in una zona con un'illuminazione stradale o quando si sta guidando a una velocità inferiore a 40 km orari. Per attivare le luci abbaglianti automatiche girare questo anello su Auto e premere la leva di comando. Questa spia si accende sul quadro della strumentazione per confermare l'attivazione della commutazione automatica delle luci abbaglianti. Per disattivare la funzione girare l'anello in una posizione diversa da Auto o tirare la leva di comando verso di sé. Per garantire il corretto funzionamento del sistema, assicurarsi che la telecamera nella parte alta del parabrezza non sia ostruita da sporcizi, ad esempio fango o neve. Grazie. Grazie. Grazie.